Incidente mortale ad Altavilla Silentina. Nell'impatto tra una Fiat Panda ed una Lanciamusa avvenuto sulla SP317 nel località Borgo Cariglia, intorno alle 11.30 di questa mattina, ha perso la vita una donna di 91 anni che viaggiava con due familiari rimasti feriti. L'auto è terminato in un canale consortile a seguito del sinistro. Anche il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito, un uomo di battipaglia trasportato d'urgenza in ospedale. A svolgere i rilievi del caso sono stati i carabinieri della locale stazione con il coordinamento della compagnia di Eboli agli ordini del capitano Luca Geminale.